buongiorno a tutti ragazzi buongiorno 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 allora cappotto tre su tre bene 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 altro tour americano senza una vittoria a mano appena pareggio a juve poi vabbè riguori però non sapete benissimo che se mi conoscete ma non guardo queste cose questo più in questo periodo qui durante la preparazione sicuramente il lavoro alternativo sta appesantito il non poco le gambe dei giocatori non può pretendere freschezza atletica la reattività magari certe cose non riescono a farle perché non sono proprio nella condizione di farle con la testa magari sì ma col corpo no il corpo che non segue la testa e va bene e fin qui ci siamo abbiamo giocato con tre squadre top poi oltretutto real madrid barcellona in primis la juve che sempre la juve con senza allegri è sempre la juve e c'è difficoltà ugualmente anche con la juve però la cosa che mi ha lasciato dubbioso e che c'è tanto da fare e secondo me non so neanche se ci riusciamo perché diciamo che voglio essere ottimista positivo positività a gogo perché se guardiamo bene ragazzi abbiamo lo stesso lo stesso tipo di gioco stesso tipo di impostazioni dello scorso anno ragazzi abbiamo facciamo i soliti errori dello scorso anno uguali 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 cambiano l'ossatura è quella della squadra ed è qui ci sono lineasti nuovi ovvio diamine c'è da lavorarci tanto però ragazzi io io ve lo dico qui e tenetelo bene a mente quello che mi preoccupa che mi ha fatto stracere il naso e che c'è l'ossatura vecchia che dovrebbero essere un po più rodati no tre anni che giocano insieme lasciando sta magnan che è un fuoriclasse fenomeno il vero fenomeno fuoriclasse penso della squadra anche quest'anno ma solito tipo di gioco giochiamo solo sulle a siamo dietro per ripartenza manda avanti il pallone a tirare a campan anche quest'anno spero di no insomma per ora ci abbattate che traversoni telefonati telefonati non si fa un tiro fuori da fuori aria cosa che per esempio Barcellona non l'ha fatto io ve lo devo di se ve lo devo di ve lo dico secondo me il mio modesto parere mister non ci ha capito speriamo che poi ci capisca non ci ha capito un cazzo neanche quest'anno neanche con 2 acquisti te li può comprare a chi cavolo vi pare poi prunic si è importante per spezzare il gioco avversario come interme incontrista e va bene come recupera palloni e va bene ma quella però con le squadre che metti devi giocare a pallone ti giocare uno da lì in mezzo che ti giochi a pallone che ti faccia gioco che sappia passare il pallone quando c'è da palleggiare e che unisce purtroppo che non è colpa sua non lo può fare ma proprio l'idea il contesto del gioco che c'è che c'è stato anche di sera questa notte scusa stamattina insomma quando cazzo volete è quello che mi lascia storcere il naso l'inter è molto più amanti perché è una cosa ben definita noi che noi che dobbiamo fare qual è il nostro gioco giocare d'attesa cioè noi dobbiamo rigiocare d'attesa con l'acquiste che hanno fatto con i giocatori chi è e noi dobbiamo giocare d'attesa cioè noi impostiamo il gioco della squadra il gioco d'attesa anche tutto quest'anno qui siamo sbalcolati vabbè io spero di sbagliarmi spero di sbagliarmi eh ve lo dico non voglio far drammi ma qui ragazzi io secondo me panettone non lo mangia poi ve la butto là pensatela come vi pare cappotto non ci faccio caso a queste sconfitte ripeto servono per fare gamba per fare gruppo per fare per compattare la squadra e va bene si torna in italia via via da quest'american tour e si pensa che tra poco inizia il campionato abbiamo il trento abbiamo il trofeo berlusconi col monza e qua speriamo di vincere almeno quelle vabbè comunque c'è tanto da lavorare pur che altro proprio impostare impostare proprio l'ideologia di gioco della squadra perché questa proprio siamo la classica ideologia siamo prigionieri della classica prigionia gioco un po' stazione alla pioli punto e capo una squadra così col mila non puoi giocare d'attesa punto e a capo devi osare di più devi creare di più devi cercare di tenere il pallino del gioco di più punto forse ci riusciranno vabbè da vedremo allora mi sembra fotocopia dell'anno scorso anno con o senza giocatori acquisti nuovi ve lo dico ciao